Il rischio è importante trovare un buon equilibrio, se giocheremo troppo sulla difensiva rischeremo veramente di perdere, se invece giocheremo troppo offensivo il rischio sarà lo stesso. Quindi dovremmo fare una partita molto equilibrata. Coach, pensa che può sfruttare l'esperienza della partita di Salisburgo e quindi ripartire da lì? Sì, sicuramente è stata una buona esperienza, è sicuro, ma dovremmo sapere cosa facciamo bene e cosa possiamo migliorare in fronte di questo gioco. Perché durante 25 minuti abbiamo visto una buona squadra, ma dopo abbiamo dato molto di spazio. Quindi sì, è stata una buona esperienza, ma ora dovremmo sapere come il livello è alto nella Champions League. Sì, sicuramente non è stata una bella esperienza quella di Salisburgo, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato, dove dobbiamo migliorare. Abbiamo giocato bene per 25 minuti, però poi abbiamo lasciato troppo spazio e chiaramente a questo livello in Champions League non si può fare. Sì, salve mister. Salve. Lei ovviamente è di origine italiane, quindi immagino conosca anche bene il calcio italiano. Ora vi chiedo cosa le piace di Carlo Ancelotti come allenatore e se magari lo ha studiato in qualcosa, in qualcosa prova, diciamo non dico a copiarlo, ma a prima di ispirazione. Grazie. Sì, la prima cosa che mi piace di Carlo Ancelotti è certamente la sua esperienza e il suo CV, che è molto grande, sicuramente un grande allenatore in Europea che ha avuto molto titoli. Poi la seconda cosa che mi piace anche è il suo chewing gum, che ha sempre in bocca. Domani provo ad avere anche io un chewing gum, sperando che facciamo un bello risultato come lui ha l'abitudine di fare. Poi qualcuno con un grande esperienza, che è forte tatticamente, credo che ha una buona comunicazione con i suoi giocatori e sicuramente che se posso prendere esperienza domani in fronte a lui è qualcosa di bene per me. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, è un grande coach, ha un grande esperienza, ha avuto molti titoli. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. Ancelotti è molto bene da un punto di vista tattico, quindi provo a provare 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 a provare. Sì, è sicuramente, siamo stati molto appunto, perché abbiamo giocato un buon gioco durante una mancinafistica e dopo ciò che stanno succedendo. Quindi penso che ora, domani sarà un'altra giornata e domani sarà un altro gioco, e è importante che perdiamo la precedenza e che stiamo concentrati sul nuovo gioco. che è più importante. E infrenta Napoli che ha Irwin Rossano e Ospina. Vorrei un'opinione su come si stanno lavorando i due colombiani che ha lei in squadra e un'opinione su come vede i contrincanti latinoamericani di domani. Grazie. Sì, comincerò a parlare di due mie ragazze che sono effettivamente due colombiane, sono due giovani giocatori che hanno molto talento e che avranno, credo, una bella carriera nel futuro. Sono due ragazze con una grande educazione, con velocità, con una buona basa tecnica e credo che sono giocatori che saranno presto, pronti per un alto livello. In fronte a quei due ragazzi di Napoli conosco un po' l'attaccante che ho visto nel campionato europeo e mondiale che è una tecnica, una velocità e sì, è un grande giocatore insieme con Bertens e della punta che può fare un buon lavoro. In fronte a Ospina lo so che non ha giocato tutte le partite all'inizio della stagione, ma lì ha giocato le tre ultime partite, se non mi sbaglio. Due? Due? Sì, credo che è anche un grande golera del keeper, un buon giocatore, sì. Prego. Sì, i due giocatori da TENC, da Colombo, sono molto piccoli, molto talentati, sono sicuro che hanno un buon lavoro, sono presto, sono presto, 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 presto a livello. As far as two Napoli players are concerned, Luzano e Ospina, I know a little bit more Luzano, I saw him already in Champions League, he's very good technique, very good skill, he's very fast, so he's really a great player. As far as the goalkeeper Ospina is concerned, I know that he's played the last two games, and I know that he's a good player, good keeper. Coach, what's the biggest difference between Salzburg and Napoli as a team for you, to play against us? I prefer to answer... Coach, qual è la piccosa differenza tra Salzburgo e Napoli? I prefer to answer tomorrow after the game, but I think that Salzburg is a big team, the philosophy is to push, to push every time, to win the ball, to play vertically as soon as possible, not with a big possession. Napoli, I think it's a little bit different, it's also a great team with more possession, with different profile of players. If I want to speak about the two strikers of Salzburg and the two strikers of Napoli, the profiles are different. So, it's a two great team, but with two different styles. Well, of course, we'll see some more, but anyway, Salzburg is of course also a big team. Oh, scusa, I'm sorry. Allora, Salzburg è una grande squadra, comunque spinge molto, gioca in verticale, fa poco possesso palla, mentre il Napoli, appunto, fa più possesso palla e per quanto riguarda gli attaccanti di tutte le squadre, hanno due profili completamente diversi, però sono chiaramente ambo pericolosi. Mister, domani sera lei sarebbe soddisfatto se... Domani sarei soddisfatto se... No, coach, tomorrow you would be happy if... La prima cosa, la più importante è che la mia squadra crederà a quello che farà domani. È proprio importante perché... Ok, non abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare contro Salzburg. L'importante domani è nella mentalità, nella voglia, che abbiamo certezze che possiamo fare qualcosa di bene. La seconda cosa è, evidentemente, siamo a casa, siamo davanti al nostro pubblico. Lo sapete tutto che qui in Genge c'è una grossa maggiorità di italiani nel pubblico e di fare una grossa partita e di prendere qualcosa, sì? Well, of course, we'll try to play a tough game. We know that in Salzburg it was not that good, but we need to have the right mentality and we are playing here at home. We know that there are a lot of Italian fans here in Genge, so it's not gonna be easy, but we will have the right mentality, I hope. Ok, last question for the coach and then we move to Jera. Coach, Tris Mertes and Cali di Cullibale are well-known players over here. and what do you like about them especially? Coach, Tris Mertes, sicuramente uno degli attaccanti di punto al Napoli, che cosa ti piace di più di lui? Only Mertes e Cali di Cullibale. Oh, è Cali di Cullibale, che cosa ti diceva? Mertes e Cali di Cullibale. Si, Mertes è ovviamente un... sorry. We keep it difficult though, it's fine. So, yes. As long as it's English or Italian. No. I like to smile. Ah, it's funny. I like when my players like to smile, sorry. Sometimes. That's important. In our situation, sometimes it's good when a player smile, yes. Ok. Mertes, it's a good player, it's a great player and he has a great intelligence between the line. For me, it's the most important thing about him. He can move in the middle, he can move on the right, he can move on the left and he can play with the two feet. So, it's an important player for Napoli. And we see also that he can score with his head sometimes. So, it's a very great player. Colibari, yes, I think it's now one of the most central defenders, the most good players, the most central defenders of Europa. Because with his physique, with his head he can win a lot of duels. So, and he comes from games, so it's a good thing that we can play against him tomorrow. Well, for what we look at Dries Mertens, it's a great player, he has a great intelligence, he moves well in the line, he has left, 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 right, he plays well with the two feet and he also plays a goal in the head. For what we look at Colibali, I think he's one of the most strong central defenders in Europe, he has a great physique, he wins many battles, he is strong in the head, and he has also played here at Genk. So, I've lost this goal in Europe. Yeah, how can you explain the difference between last year and this year in a psychological way? Because last year the team always was in balance and the goal didn't hurt him, now anything can hurt you and change the total game. How can you explain that? Coach, how can you explain the difference from the psychological point of view from last year to this year? It seems to be a much more balanced approach than the past. Can you give us some motivation? Yeah, well, it's a very good question, you know. Of course, if we would just know the answer just like that, it wouldn't be a problem, but I agree, we are suffering if we concede a goal. The team hasn't reacted good. But, yeah, it's a team effort, it's all 11 on the pitch, and it's all about us to just forget what's in the past, because you cannot change it anymore and then just move forward. So, yeah, like I said, it's a good question, but that's really all I can say, you know. But we're still starting this and working, you know, every day in the training to get the new guys settled in better and better, get the game better by every day. so it's just keep your head down and keep working and then when the time comes, you know, just take the game in your own hands and keep control of it. Yeah, one of the big goals here of the club, of the fans, is winning that first game ever in Champions League. Is it a realistic goal against Napoli? Allora, per quanto riguarda la prima potenziale vittoria in Champions League, secondo te, è realistico poter battere il Napoli domani? For me, of course, you know, we played fantastic last season and we definitely deserve to be here. And if you don't play football to win, you know, then you shouldn't be playing at all. We know the qualities in the team, we know we're a very good team. We know that hasn't changed anywhere. So every game we approach the same way, you know, it's of course a big challenge for us against a world-class squad. But, you know, we are strong at home, we have the whole stadium behind us and we're just going to go out there and give everything we've got. And for sure, I know and I know everyone else in the team also knows and believes that we can win the game and we can win against anyone. And we just need to have a perfect day to do that and execute the game plan just the way we want to. Yeah, hello. Is there anyone in particular who you are looking forward to play against tomorrow? C'è un giocatore in particolare che hai voglia di incontrare domani? Yeah, all the guys, if I'm honest with you, you know. For me, Napoli is one of the teams that plays the best football in Europe, you know. They have a lot of technical guys, they have a lot, a lot, a lot of quality in the team, of course with some superstars there. So, it's going to be a nice task, especially for a defender to go out there and do your job. So, yeah, it's just, you know, these are the games that you just really have to enjoy. You just really have to push yourself and make it as difficult as you can for them. and that's going to be the best recipe for tomorrow. Beh, sì, certo. Napoli è tra i migliori team d'Europa. Ha tanti giocatori forti e tecnici, tante stelle. Quindi noi dovremmo essere bravi, soprattutto noi difensori a difendere bene e soprattutto dobbiamo divertirci il più possibile perché si tratta di una bella occasione. All right, more questions player or coach? No? Thank you very much, see you tomorrow.